Ciao Alfredo, sto partendo in questo momento. Il tizio che ho incontrato ieri sera mi ha dato delle informazioni molto importanti. Al mio ritorno ti racconto tutto. Tornerò presto. Quando ho letto la prima volta questi documenti, ho avuto i breviti per tre giorni consecutivi. Ho scoperto che esiste un posto ai confini con la Svizzera. Il posto che misteriosamente è stato cancellato da quasi tutte le mappe dopo il Novecento. Nessuno ne parla. Nessuno lo nomina. Ma su alcune vecchie enciclopedie, eccolo lì che appare. Non sono qui per conto della testata per cui lavoro. Sono qui perché sto cercando una persona. Qui sono tutti fuori di testa. Noi siamo in debito con Callum. Tutto quello che abbiamo lo dobbiamo a lui. Ci sono porte che non devono essere aperte, Rebecca. Non avere paura. Io ti sto aspettando. Lo hai descritto come se si trattasse di un... Sorprendente, vero? Tu non puoi immaginare con chi è che fa. Quell'essere che è il male. Tu è incisa! Non lo posso davanti ai miei occhi! Il suo sangue... Ricordo ancora il suo dolce sapore. Via! Chiunque entra a Timere, resta a Timere. Tu strappi dalla loro vita in un brisolo di umanità felicoese! Chi sei tu per decidere? Chi è meritevole e chi no? Tu non doni l'immortalità. Tu li privi della vita. Perché loro sono tutti... Già morti! No! Vorrei! Cat finances! C'è il cuore! Oh... Che...